Le iniziative della carità sono il frutto maturo di una Chiesa che serve, che offre speranza e che manifesta la misericordia di Dio. Sono parole dense di gratitudine quelle che Papa Francesco ha rivolto agli operatori delle diverse realtà caritative della Chiesa Cattolica in Georgia, incontrati nella periferia di Tbilisi, presso il Centro di Assistenza dei Camigliani. Il complesso socio-sanitario realizzato dalla Caritas Italiana e da altri organismi internazionali ha un bacino di utenza di circa 400.000 persone e svolge il suo servizio in favore dei più poveri in forma assolutamente gratuita. Agli anziani, agli ammalati, alle persone sofferenti, il Pontefice, dopo averli salutati uno ad uno al suo arrivo, ha espresso una vicinanza speciale, rimarcando che i poveri e i deboli sono la carne di Cristo, una presenza che interpella i cristiani di ogni confessione, spronandoli ad agire senza interessi personali, ma unicamente seguendo la spinta dello Spirito Santo.